Oh Guarda! Che è chique! Mi sembrava a Rath e la mia gente... ...pra... ...Ceara? ...è... ...è, mi sembrava che stava insegnando a fare questo. ...è, ho tenteo che fare. non è facile non, e tu stai cominciando a prendere ora? guarda? guarda guarda Quasi, devo lasciare più vicino al calcanharo. Questo. Listo. Molto bene.